Quindi, palla-gol per il Siena, e da Ghezzal, scusate, Bologna che attacca, attenzione ad Ailton, dal limite, il tiro-gol! GOOOOOOOL! Del Bologna, è GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Il terzo gol in questo campionato, giocando poco, il capo canoniero del Bologna, la testimonianza che nel gioco del calcio la prima cosa che contano sono i piedi, perché questo quando tira può formare comunque. Che pena che ha fatto! Anche sul coltano, Mingazzini smarcato la posizione di ala a destra, va verso il lato corto dell'aria di rigore, torno indietro, si accentra, da dietro per Guana, Guana per Tedesco sui 30 metri, va a smistare sulla posizione di ala, vertice dell'aria, per Vagliani il cross di Lanna, si testa GOOOOOOOL! 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 Del Bologna, è GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Di POPLO! Daniel! Osvaldo! 2 a 0! 2 a 0, quatoricesimo, un cross fantastico di Lanna! Gran giocata! Ha fatto una grande giocata, ha messo la palla sulla testa di Osvaldo, rivediamo Vagliani che gioca un ottimo pallone sulla sinistra, arriva in sovrapposizione l'anno, il cross di prima in testione, alla testa dei 5 metri, mezzo metro fuori dell'aria piccola, incorna Osvaldo in sacca alla destra dell'estremo difensore, spiazzando letteralmente il portiere e mettendo il Bologna su una posizione più tranquilla. Neanche Mario Zagallo faceva dei cross così, il cross di Salvatore. Grazie.